Buongiorno, benvenuti, benvenuti alla diretta Intermarket, saluto, collegamento audio con Marco Pianezza di STO, ciao Marco! Ciao, ciao Renato, buongiorno a tutti! Bene, bene, San Valentino, San Valentino, auguri a tutti gli innamorati, auguri, insomma, come dicevo già stamattina in un'altra diretta, auguri a noi innamorati del trading, degli investimenti, tutta quella che è l'attività che c'è di tutto intorno. E magari su Bloomberg stanno facendo una cosa simpatica oggi, qual è il trade del tuo cuore? Oggi, visto che è San Valentino, oppure dite quello che è lo strumento del vostro cuore, fatemi sapere, insomma, nella finestra delle domande, tra un po' ci sarà l'interazione, vi saluterò tutti quanti, assolutamente. Se avete il microfono attivo, anche le cuffie cellulari, al jack, mettete dentro, insomma, USB, quello che è, e volete partecipare, me lo scrivete nella finestra delle domande, ieri c'era Stefan dalla Germania, ci ha fatto un saluto in tedesco, Stefan, la Germania è una scampata bella, 0, 0%, il PIL dopo il meno 0,2%. Ma andiamo, andiamo, cominciamo con la sigla, la vado a lanciare, eccola qui, e quindi partiamo ufficialmente con la diretta Intermarket, ci siamo, ci siamo, ecco la lista per comparire, andiamo, andiamo, andiamo. Ed eccoci, eccoci qui, nuovamente, buongiorno, fatemi aprire, non ho ancora aperto la finestra delle domande, eccolo lì, Marco Provenziani, buongiorno, sole spettacolare a Re Canati, sole, non sole, in altro senso, mi raccomando. Buongiorno, a calla di san, breaking news, attenzione, c'è una breaking news su Bloomberg, che è successo, che è successo? Buongiorno la signorina, la signora, British Pound, niente, breaking news, è rimasta in sospesa, c'è una breaking news in sospesa in questo momento su Bloomberg, che saluto anche Antonio, Domenico, buongiorno, traders innamorati, buongiorno a tutti, anche da EFI, e buongiorno per quanto riguarda Mauro PT, buongiorno quindi ancora Marco Pianezza, come, ecco la breaking news, c'è una dichiarazione di lose boy, per quanto riguarda Bank of England, la risposta sarà More Likely APT, questa sigla APT, non lo so che cosa si riferisca personalmente, la risposta della banca centrale rispetto a un no deal, Likely More APT, questa è questa sigla APT in inglese, non lo so Marco, tu sai qualcosa, capisci qualcosa? No, ma mi provo a informare. Perché APT, we'll be more likely APT, e cos'è, io so, ASAP, it's not possible, la sigla APT, mi mancava, c'è Ferruccio, buongiorno, Ferruccio, tu Ferruccio sei sulla stellina, è vero, vero che sei sulla stellina, May faces revolt, la rivolta di Theresa May, oggi c'è un voto, Marco, ma a te risulta che c'è il voto, era previsto il voto oggi lì a Londra, sembrava sposticipato al 27, ma oggi, da quello che ho letto Bloomberg, c'è un voto oggi, a te cosa risulta in tal senso? Risulta che sarà oggi, quindi... E oggi, vedete, qui su Brexit, per quanto riguarda... Aspetta che non ti sento bene, ripeti, scusa? No, dico sempre un po' confusa la situazione in questi giorni. Confusa e dire povero, è un eufemismo, diciamo confusa, è poco. Poi Efi, i miei sono... allora, ecco qua, il trade, allora, visto che stanno facendo Bloomberg oggi, qual è il trade del cuore, o lo strumento finanziario del cuore, lo facciamo anche noi, Efi dice, i miei sono gli indici, perché costano meno e si guadagna meglio, ecco, guardate, interessante questo messaggio di Efi. Poi c'è Massimo, buongiorno a tutto il gruppo, è grande Juventus, attenzione che Marco Pianezza invece è tifa, quale squadra Marco? Io ti fui e sto bello allacciato in questi giorni, quindi abottonato, scusa, non ho molto da dire. Non ho molto da dire, quindi potete immaginare la squadra. Buongiorno anche a Giuseppe, buongiorno bello carico Giuseppe con tante O. E allora, allora, andiamo a vedere, andiamo a vedere, c'è ancora condivisione dello schermo? Sì, 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 cominciamo a vedere quello che è il calendario macroeconomico, perché sono già successe tante, tante cose. Questa giornata è dedicata al PIL, alle 11, proprio in chiusura di questa diretta ci sarà anche quello, lo seguiamo insieme, lo seguiamo insieme, quello europeo, europeo. Winston dice che tra me non sta mostrando una leadership, questa qui, questa qui, che è deputata leader dei democratici liberali, quindi attenzione in tempo reale. Allora, concentriamoci sui dati, concentriamoci sui dati perché ne sono usciti diversi importanti. Allora, cominciamo da quello giapponese, sono riuscito a personalizzare il calendario su Trend Economics, era una questione di zoom della pagina, non so perché zoomando di più non veniva, invece avevo ristretto lo zoom, sono riuscito a personalizzare, ci ho messo finalmente dentro anche New Zealand. Allora, andiamo a vedere, la variazione è stata positiva per quanto riguarda il PIL, il PIL giapponese, che è risuscita dal precedente, meno 0,7, sale dello 0,3, ci si aspettava un rialzo 0,4, ma va bene. I consumi e domanda interna hanno retto, hanno sopperito alla carenza di export per il discorso guerra dei dazzi e questo è un tema che vedremo adesso quando leggeremo pure quello che è stato il PIL tedesco. Quindi, grazie alla domanda interna, i giapponesi hanno speso, insomma, il 60% del PIL, del consumo incide per il 60% sul PIL giapponese e si sono salvate. Annualizzato siamo a più 1,4 dal precedente, meno 2,6 ed è in linea con quello che ci si aspettava nel mercato, 1,4%. Poi vedete scorporato tutti gli altri dati. Poi, altra sorpresa, alle ore 4, cosa facevi Marco Pianezza alle 4 di questa notte? Dormivo serenamente. Dormiva, 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 mentre in Cina veniva pubblicato il dato sulla bilancia commerciale, che è risultato essere sopra le attese, ci si aspettava un più 33% sul plus, un avanzo, quindi 33,5%. Nettamente in calo, però, dal precedente, 57% e leggevo prima alcuni commenti di esperti, economisti, che dicevano, attenzione, che anche questo dato non è molto attendibile, è stagionalizzato e quindi c'è stato anche il discorso del capodanno cinese, a tutelare, insomma, è quindi da prendere con le pinze, da prendere con le pinze. Notiamo che l'export è salito, anche probabilmente inciso lo shutdown, che quindi ha portato ad un'esportazione export maggiore per quanto riguarda la Cina, che vedete, più 9%, mentre import diminuito decisamente, meno 1,5%. E poi, eccoli lì, tedeschi, eccoli lì, tedeschi, Antonio, mi dice, in ambito economico, l'unica sigla APT che ho trovato è Arbitrage Pricing Theory. No, Antonio, non lo so, non lo so che cosa voleva, perché non penso si riferisca a quello. Comunque, grazie, Antonio, ma vedi che efficienza, Antonio, ma come siete fantastici. E allora, Antonio, guarda il PIL tedesco, 0, si sono salvati per un pelo, per un pelo, due trimestri negativi fanno scopa e quindi sono recessione tecnica, come è successo a noi italiani, i tedeschi se la sono salva, scampata, per un pelo, per un pelo però, comunque, crescita 0. Nel quarto trimestre, vedete, Q4, la stima flash, quindi ferma. L'economia comunque tedesca, anche qui, grazie alla domanda interna, al retto, mentre la crisi che viene da Brexit, Cina, è un paese fortemente spottatore, per quanto riguarda anche come il Giappone per la Germania, automobili, vedi, automobili, e insomma, ci sono, ci sono. Poi vedremo, proprio in chiusura di questa diretta, eccolo qua, vedete questo signore qui, che sta facendo lo speech ed era riferito a quella breaking news che abbiamo visto prima su Bloomberg TV. E alle 11 vedremo il PIL, come ce l'abbiamo noi europei il PIL. Il PIL, le previsioni sono per 0,2 e su base annuale 1 e 2. Seguiremo, seguiremo, mi raccomando, non andate via, state qui con noi fino alle ore 11 e poi nel pomeriggio, tante, tante, tante bandierine americane, ieri in inflazione, tutto sommato, o in linea, o vicino a quelle che erano le attese del mercato. E di nuovo lo mettono, loose, policy response, likely more APT, if no deal. APT, resterà questa cosa, un mistero, questa sigla, APT, APT, non lo so, non mi viene, non mi viene proprio. If Brexit is smooth, se mentre una Brexit attenuata, potrebbe esserci un rialzo dei tassi dello 0,25 in quest'anno. Attenzione, la Serena non sta reagendo per il volumente ancora a questa news, sono 0,28,35. Quindi un soft Brexit, diciamo, potrebbe esserci un rialzo dei tassi. Questo in tempo reale, in diretta, grazie a Bloomberg TV. Dicevo, nel pomeriggio invece ci sono i dati macroeconomici americani, vendite al dettaglio, anche qui per avere un po' il termometro della situazione, per quanto riguarda i consumi, che per quanto riguarda il PIL americano incidono 80%, Giappone 60%, in America 80%, importante, questi americani che spendono, spendono, anche se non ce li hanno i soli, spendono lo stesso. Prezzo alla produzione, quelli core, il giovedì sempre il classico appuntamento settimanale con i sussidi, quindi vedete, ce ne sono, ce ne sono diverse alle 14 e 30 concentrate a quell'ora lì, anche alle 16, Business Inventories, poi qualche membro della Fed, e anche Kent, Clark Kent, la banca centrale australiana, il famoso Superman, no, no, è Kent, solo cognome, e poi vedete, US-China Trade Talks, e questo già mi dà lo spunto per parlare, qui avevo l'articolo, insomma, dalla Reuters per quanto riguarda il dato sulla bilancia commerciale, però ho già detto praticamente, ed eccolo qua, cominciamo da qui, intanto è arrivato pure Giuseppe, eccoci, buongiorno, buongiorno, buongiorno Giuseppe, buongiorno, benvenuto, ben ritrovato, allora Giuseppe si parla di un possibile rinvio della scadenza, il primo marzo scadono i tre mesi che si erano dati all'epoca per trovare un accordo, tutto gennaio, prima i cinesi sono andati in America, gli americani sono andati in Cina, i cinesi in America, adesso gli americani sono tornati in Cina, da quanto è trapelato dal Wall Street Journal non c'è neanche una bozza di accordo, si va avanti, Trump ha fatto capire che si potrebbe posticipare, dare altri 60 giorni, insomma, prendiamoci il tempo, prendiamoci il tempo necessario, e lui dice la Cina ha bisogno, ha bisogno assolutamente di un accordo e siamo vicini, è ottimista, è ottimista, questo ottimismo si vede sul mercato azionario, vedrete, vedrete i grafici ai chi nasce, che cosa ci dicono in tal senso, è sempre riguardo alla Cina, c'è proprio il presidente Xi Jinping, bisogna dirlo veloce, se no Xi Jinping è lì che potrebbe incontrare proprio la delegazione americana, però Trump ha detto fino a quando non ci guardiamo a quattro occhi, io il presidente cinese, non succederà nulla, quindi se non c'è questo incontro, che prima si era detto a marzo, vedremo se ci sarà o meno, quindi comunque ci sarà, vedete, according to the morning post, dovrebbe esserci questo incontro. Poi, poi, ieri è venuta fuori questa news, non so se l'avete vista, Marco, in America siamo arrivati a 22 mila miliardi di debito, superata questa soglia record, 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 però qui in questo articolo dice ciò che conta, ciò che conta bisogna vedere il livello del debito raffrontato al PIL, e non siamo, vedete, we are, no, which is not the danger zone, non siamo ancora nella zona pericolo, però, ovviamente, è da monitorare, ed è un articolo che poi magari andatelo a vedere, fa vedere tutto uno studio interessante, vedete, ci sono dei grafici, dimostra che con Ronald Reagan è aumentato questo debito, poi addirittura si era arrivato a un surplus con Bill Clinton, e tutto il resto, interessante, interessante, se volete poi andatelo a vedere. Torniamo in Europa, andiamo in Europa, perché ieri, qui vedete, dal sole 24 ore, Spagna e il Parlamento boccia la finanziaria, verso il voto anticipato, ieri l'indice spagnolo è quello che è andato un po' tirato al ribasso, non ha brillato come hanno fatto il resto d'Europa. E riguardo a Brexit, c'è stato ieri Donald Tusk, c'è chi dice, mi hanno detto Tusk e la pronuncia, a me piace Donald Tusk, insomma, anche noi abbiamo una nostra versione di Donald, comunque, il Presidente del Consiglio Europeo, quello che l'altro qualche giorno fa twittò, dice anche lui, come Trump, insomma, gli piace twittare, ci mette un po' di pepe dentro i tweet, che disse, non so quale posto speciale all'inferno potrà essere riservato a coloro che hanno promosso Brexit senza avere un minimo di piano su come poter attuarlo concretamente, e adesso, di nuovo, ieri ha twittato questo, siccome non arrivano notizie al fronte Brexit, sia tra ieri, insomma, sono tutto fermo, lui dice, non news is not always a good news, una non news, non sempre, perché solitamente si dice, non news is a good news, se non succede niente, tutto va bene, e qui dice, no, non è così, non è sempre una buona notizia, i 27, noi, che siamo noi, lui ci rappresenta, stiamo ancora aspettando per concrete, realistiche, proposte da Londra su come uscire, break, rompere questa impasse, questa situazione di stallo, riguardo a Brexit, e quindi aspettiamo, no news is not always a good news, dice Donald. Buongiorno a Gaetano, attenzione Massimo, Marco, scrive Massimo, per il dottor Pianezza, spero sappia ballare il waltzer, ho letto, però non so prego se rispondi, comunque sai ballare il waltzer, almeno questa, non sa niente niente, facci sapere, facci sapere Massimo, perché spero sappia ballare il waltzer, non so se cattinezza calcistica, non lo so, non lo so, non riesco a vedere, facci capire, Massimo, facci capire, e adesso andiamo a vedere, cominciamo a vedere i grafici, facciamo, comincio, torno a mostrare, eccolo qui, il mio monitor, con i grafici, Gaetano, quindi buongiorno Gaetano, sei in posizione Gaetano, stai speculando, rialzo, sei sull'indice giapponese, che ha rotto, ha rotto, violato, è brutto dire, però è così, scusa a dire, ha rotto, ha perforato, va, diciamo così, quella che era la resistenza sui 20.913, e adesso si va, si va, si va, nuovamente, adesso vedremo fino a dove potrà, una volta superato, vedete, questo ostacolo, il prossimo, perché è tracciato, perché da qui, già due volte, vedete, è stato anche in precedenza un bel supporto, aria 22.600, ma deve prima ancora arrivare ai 22.000, cifra tonda, però insomma, ora è semaforo, verde, ai chinash, così come si può vedere, in questo momento. Vediamo l'America, vediamo l'America, Massimo, l'attinenza è calcistica, Marco, quindi il waltzer, waltzer, quindi l'attinenza è calcistica, poi c'è Gaetano, che scrive, sono short sull'S&P 500, cominciato a 2740, poi Efi, Marco, oramai sei al centro qui dei messaggi, il dottor Pianezza, Tifa Inter, è uscita fuori la tua passione calcistica, no, no, l'avevo detta prima Renato, ah, l'hai detta, allora non ho seguito io, finita me, il microfono era troppo basso, il volume era troppo basso, quindi, ah, ah, Vienna, ore 18.55, vedi, Marco, tu lo devi sapere, io non sei, no, no, pensavo per la volettilità sui mercati, o sulla sterlina, pensate, lui è sempre focalizzato sui mercati, anche Carlo, forse perché l'Inter gioca con Rapid Vienna, ecco perché abbiamo scoperto, abbiamo scoperto, vedremo se riusciremo a capire anche l'APT, che abbiamo visto prima su Bloomberg, fino alla fine di questa diretta, quindi, tornando allora ai mercati, c'era Gaetano che ha detto, sono short sull'S&P 500, ora Gaetano, quello che faccio vedere io, non è che la bibbia del trading, però, guarda qui, guarda qui, guarda questo grafico Aikinashi, sugli indici americani, dove l'S&P 500, ripeto, non vuol dire che questo è sicuro, quindi lo dico io, lo dico nel grafico Aikinashi, è così, però, c'è la violazione, attenzione, c'è la violazione, del livello a 2730, ovviamente la tua è strategia, continua a seguire quella, assolutamente, però, io quello che ti posso dire, c'è stata la violazione di questo livello, eccolo qui, vedete, violazione di questo livello, adesso potrebbe, potrebbe, chissà, vediamo se ci arriva, se c'è la forza, c'è benzina abbastanza per arrivare ai 2808, questo font, carattere della metatrader, che è piccolissimo, mamma mia, difficile da vedere, leva bassa, scrive Gaetano, per adesso, quindi, ora, vediamo, Gaetano, se avrà la forza per andare fino ai 2800, se andrà ancora più su, qui addirittura siamo sui massimi storici, certo è che questa situazione dei Dazzi, e shutdown, è un'altra cosa che domani scade la tregua, quindi due tregue sono in corso, primo marzo con la Cina, e il 15 con i democratici, per la risoluzione di questo muro, che pare si sia trovato l'accordo su delle barriere moderne, barriere moderne, quindi, salgono, salgono, spinte da queste due, notizie positive, sia il, questo è il, l'S&P 500, che è anche, stessa situazione, vedete, Dow Jones, uguale, uguale, quindi, vedete, prossima resistenza, 26195, poi quella lì in alto, proprio sui massimi storici, anche il Nasdaq, però il Nasdaq, ieri non è stato proprio convinto, è praticamente chiuso sulla parità, prossimi livelli da monitorare, sono 7169, e i massimi assoluti, 7670, quindi, questo, vediamo, 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 c'è Mattia, che ancora non aveva scritto Mattia, dipende se il PPT ne ha ancora, non oso andare oltre, mi fermo lì, poi ampliamo man mano, dice Gaetano, per quanto riguarda il suo short sull'S&P 500, EFI, S&P 500 è diretto a livello 2785, lì vediamo, qui, ripeto, non c'è nessuno che ha la bacchetta magica, che il guru è più bravo, io mi metto, siamo tutti sullo stesso livello, assolutamente, quindi ognuno ha la sua strategia, poi, secondo il mio parere, rialzo falso, dice Gaetano, va bene, va bene, Gaetano, lui dice no, non ci credo, non ci credo in questo, poi lui avrà fatto la sua strategia, avrà altre, insomma, magari non i grafici a chi nasce, quindi, va bene Gaetano, basta che tu continui a seguire quello che è la tua strategia, il tuo piano, Antonio dice, graficamente non si riesce ad apprezzare la salita dell'S&P 500, ma dai minimi di dicembre è stata la salita più veloce della storia, anche il Nasdaq è uscito fuori dal mercato orso, una correzione del 20% dei massimi relativi assoluti, come nel caso dell'indice tech, è una delle più veloci a livello storico, e quindi, insomma, Carlo, non ho visto la resistenza del Dow Jones, è questa qui, quindi successiva, 26.195, da dove c'era stato questa correzione, e poi qual è lì sui massimi storici, EFI, Nasdaq verso il livello 7.300, Mattia, no, pensate male, è il Protection Lugin Team attivo dalla vigilia, Mattia, Mattia, riporto quello che ha scritto Mattia, allora, stanno uscendo anche qui, allora, sempre ben convinga, taglio tassi più probabile di rialzo con no deal, prima vi ho fatto vedere quella dichiarazione che era stata, vediamo se hanno tradotto all'italiano, allora a questo punto, perché prima è uscito fuori, che ha detto che con una soft Brexit, smooth Brexit, potrebbe esserci un rialzo dello 0,25, ecco perché quando si parla di soft Brexit, anche un rinvio di Brexit, la sterlina tende a salire, solitamente, non in maniera meccanica, invece un no deal, parla di possibile, taglio dei tassi, probabili minori rialzi tassi, anche con accordo su Brexit, e quindi, insomma, oggi il Parlamento UK potrebbe bocciare la mozione May su accordo, quindi, vediamoli, cominciamo a vedere, allora cominciamo a vedere un po' di forza, ah no, no, dobbiamo chiudere, devo completare l'analisi dei mercati azionari, perché c'è da festeggiare, festeggiare, chi ha rialzo, ovviamente è contento, è stato buttato giù la resistenza sul nostro Fuzimib, il codice CFD che trovate su STO è il I40 EUR, ma mi favo lì, I40 viene da dire qualcos'altro, I40 EUR, quindi, vedete, è stato qui violata la resistenza, prossimo livello, questa qui, ex supporto, che potrebbe forse dare fastidio, vedete qui, quello che è I20.320, ma il semaforo è verde, 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 ai chi nasci, chissà che non avrà la forza di arrivare fino qui sopra, dove c'è il livello di 21.634, per il momento, perché oggi era partito bene, poi ci sta, ci sta anche qualche presa di profitto, viene da un periodo particolarmente favorevole, che ha spinto il nostro indice a superare questa resistenza, e quindi si porta al rialzo, e andiamo a vedere il resto d'Europa, se ci sono conferme in tal senso, il DAX sta disegnando la terza candela possibile ai chi nasce al rialzo, però qui aspettere un segnale di forza, una chiusura giornaliera ai chi nasce sopra le 11.330, sale anche l'indice francese, oramai è sopra, già ieri ha messo la testa sopra in vista, una possibile violazione, 5.069, l'Eurostox, che copia come sempre tutto quello che fa il DAX, l'Inghilterra Fuzzi Centro lo lasciamo lì almeno fino al 29 marzo, poi quando ci sarà effettivamente o no, chissà Brexit, resta ancora rialzo, e approfitta anche della svalutazione dell'Asterlina, 1.2834, adesso ve lo faccio vedere anche qui il grafico, perché nel Fuzzi Centro ci sono molti titoli che fanno business all'estero, e quindi la svalutazione dell'Asterlina, loro ne sono assolutamente, brindano contenti, sono felici, quindi in questo momento noi italiani, anche se siamo invece su una tecnica, graficamente parlando, un segnale di forza maggiore rispetto al resto d'Europa, insomma siamo gli ultimi, 0.2 ci hanno messo le stime PIL a Commissione Europea, qui invece, almeno secondo questo grafico, siamo i primi, i primi decisamente che hanno dato un segnale più forte, rialziste, e cominciamo a vedere un po' di Forex, i principali cambi contro dollaro, nel frattempo EFI scrive, occhio OSD CAD che spinge al nord, e WTS risponde a sud, adesso andiamo a vedere, lì ci sono anche delle situazioni nuove interessanti da vedere, Mattia siamo i primi degli ultimi, e lo so, capovolgendo la classifica, siamo i primi, attenzione, guardate qui, guardate qui che cosa, quando uno dice mai anticipare, mai anticipare, perché ieri, questa candela, questa candela qui, purtroppo perché io sono mancino, quindi scrivere con la destra mi esce difficile, non escono proprio precise le freccettine, quindi questa qui, se si è vista bene, bene, insomma, ah c'è anche la freccia, cioè se faccio la freccia, ah così, questa qui, questa candela, questa candela, no non mi piace, torniamo alla penna, quella candela ieri era, questa qui, ieri era verde, durante la diretta, lo ricordi, te lo ricordi, tu che c'era la diretta, era verde, era verde, ecco perché mai anticipare, se usate un grafico daily, aspettare la conferma, e ieri era verde, ma poi a fine seduta, anche probabilmente, per i dati, l'inflazione e tutto il resto, insomma, questa forza di dollaro è tornata rossa, e quindi resta l'impostazione ribassista, e vedete come invece va al rialzo, il dollaro franco svizzero, confermata, quindi quella che è la correlazione inversa, perché euro-dollaro, se si apprezza la moneta americana, scende, scende l'euro e sale il dollaro, se il dollaro lo metti da qua, ci togli l'euro e ci metti CHF, vediamo il movimento opposto, che vedete qui al rialzo, la sterlina continua a venire giù, tra incertezza Brexit e forza del dollaro, e mentre sale dollaro contro yen, vedete anche qui, forza del dollaro, e forza della correlazione intermarket, che c'è tra il dollaro-yen, e l'indice giapponese, che avete visto, sia anche quello giapponese che americano, e hanno tutti rotto al rialzo, quindi hanno perforato, violato al rialzo rispettive resistenze, e quindi il dollaro-yen, che va, 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 vediamo cosa farà qui, su questo livello, che un ex supporto potrebbe fare, da resistenza 111,76, però insomma, vediamo, vediamo, vediamo che cosa succede, appena il trampone vede quel rosso, Marco, togli euro, metti dollaro, metti dollaro, togli sterlina, sembrava più il gioco delle tre carte, è un po' simile, è un po' simile, attento Marco, attento Marco, attento Efica, ha parlato di USDCAD, perché adesso sempre dollari, però parliamo di materie prime, devo togliere qui, anche se non mi fa fare il cambio, non mi toglie il mouse, Forex e materie prime, attention please, attenzione, attenzione, perché il colore della penna, scegli il colore della penna, torniamo, mettiamo il blu, va, mettiamo il blu, attenzione, perché qui c'è la perforazione, questo è il brand, UK, vedete qui, UK, scritto qui, UK ovvero quello, Londra, Mar del Nord, Londra, il WTI, che è questo qui, US Oil, questi sono i codici CFD che trovate, appunto, su STO, invece, e ancora no, non ha rovinato, non ha rovinato, non ha buttato giù, la sua resistenza, quindi, aumenta anche lo spread, tra i due strumenti, vedete la quotazione, siamo a 54, contro 64, 10 dollari, 10 dollari di spread, tra i due prezzi, e questa impostazione, che abbiamo visto, rialzista, ha portato a questa candela rossa, Aikinashi, su UST card, ho preso questo come livello di riferimento, 1,3353, quindi, se proprio, dovesse tornare a spingere al rialzo, aspetto una chiusura giornaliera, così come anche qui, comunque qua c'è quest'altro livello, adesso si trova qua dentro, vedete, il US Oil, WTI, vedremo, vedremo anche perché, ora come ora, ci sono tutte le speculazioni, in corso, sul fatto che ci potrà essere, un nuovo meeting, il nuovo meeting ci sarà a maggio, quello OPEC, e non OPEC, il nuovo cartello, che potrebbe nascere, questo super OPEC, con un peso maggiore, Arabia Saudita, Russia, insomma, tutte queste situazioni, da monitorare, attenzione al petrolio, però, decisamente, UK più forte, rispetto a US Oil, mentre il gold, si resta sotto questa resistenza, di 1.321, però è qui, adesso, siamo qui, laterale, 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 non prende una decisione, insomma, non prende proprio una direzione, più che una decisione precisa, e si resta, in questo contesto, comunque, ribassista, ribassista sotto questa resistenza, dei 1.321, Carlo, buongiorno, oro, dorme, sonni profondi, e Carlo, cosa sta aspettando questo gold? Questo gold è strano, un movimento che saliva, insieme al dollaro, insieme all'azionario, ora comincia a scendere, 1.306, chissà, chissà che, non si è ricordato, di essere, contrapposto in maniera, inversa, con il mercato azionale, però, non è automatica, c'è qui, c'è questo piccolo supporto, vedete, più chiarissimo, 1.303, 1.303, di brevissimo, parlo proprio di brevissimo, dove vedete le ombre, di queste candele, le ombre sono i minimi o i massimi, si sono fermati nell'ultimo periodo. E adesso, Carlo, tu so che segui il mercato obbligazionario, guardate qui, attenzione, qui, il boom, che abbiamo visto ieri, come al solito, bisogna vedere tutto, tutto, nel complesso, il grafico, e abbiamo fatto vedere come già, queste rosse, quest'altra rossa qui, quest'altra rossa qui, quest'altra configurazione rossa, quella ancora più recente, insomma, alla fine, erano solo momenti di pausa, di un trend, che è decisamente, come potete vedere, al rialzo. C'è stata la conferma, ora, per dire, decretare, nuovamente, il trend, questo per dire, che siamo tornati al rialzo, una chiusura superiore, qui sopra, a questo livello, che è 166,52, e attenzione, perché, attenzione, perché, andiamo a vedere, se allargo lo zoom, vedete già, la resistenza è notevole, il prossimo livello, potrebbe essere, qui, in alto, mamma mia, 168, lo vedete scritto qua, quindi, però, aspettiamo ancora, la chiusura, su base giornaliera, per avere conferma, mentre, per quanto riguarda, il T-Bond, perché con STO, potete anche investire, sul T-Bond, ha dato, confermato una seconda rossa, una terza in corso, insomma, più, anche qua, laterale, non è che si vede, qualcosa, di, eh, interessante, decisamente il Bund, il Bund da seguire, in questo momento, due minuti al PIL, scrive Giuseppe, Carlo, di fatti rischioso, andare corti su Bund, e questi sono i prezzi, che vanno dalla parte opposta, ai rendimenti, quindi i rendimenti, sono più di sottoterra, proprio sottoterra, non a zero, sottoterra, andiamo a vedere, allora, vado alla schermata, la schermata, con il dato macroeconomico, sta per uscire il PIL, vediamo il PIL, com'è questo PIL europeo, vedete, 0,2, 0,2, se esce qualcosa, mentre 1, è 2, proiettato a livello annuale, ci siamo, ci siamo, siamo quindi vicini, nel frattempo Marco, qualcosa da ricordare, in merito STO, dell'attesa? ma, ieri c'è stato il webinar di Ivan, quando è stato il webinar, con Ivan, con la formazione operativa, ieri o l'altro ieri? Il 12, il 12 febbraio, il 12 febbraio, l'altro ieri, quindi che, la registrazione è sul sito? La trovano sul sito? La registrazione sono sempre, all'interno dell'area privata del sito, quindi, basta allogarsi, anche come clienti demo, si trovano tutte le vecchie registrazioni, e poi il 26 avremo il nostro webinar, con anche Sabino, un pomeriggio da trader, dove facciamo praticamente, vedere quella che è l'operatività, un classico pomeriggio proprio da trader, come dice il titolo, e quindi, con strategie, operazioni in real time, e tutto il resto, servizio di Ivan, che potete avere gratis, con appunto, STO, e quindi, insomma, potete contattare, Marco Pianezza, Marco, se lasci i tuoi riferimenti, magari all'interno della chat, e poi invece, chi sta guardando la registrazione, di questa diretta, sotto, in basso nella descrizione, ci sono i link di riferimento, sia per registrarsi al GoToWebinar, e partecipare al live, area euro, 0,3, 0,3, ho visto velocemente, ho visto velocemente, 0,3, mi sembra visto 0,3, 0,3, faccio un refresh, 0,2, employment change, stavano uscendo, stavano uscendo, se non ho visto male, 0,3, dovrebbe essere, no, 0,2 è confermato, allora ho visto male, non so cosa ho visto su Bloomberg, 0,2, quindi confermato, tutto in linea con quelle, che erano le aspettative del mercato, 0,2 è 1,2, vedete qua, 1,2, quindi tutto in linea, e comunque, si scende dal 1,6 precedente, poi ci sono anche altri dati, employment change, la variazione, più 0,3, questo è sopra, lo 0,2, 1,2 in linea, con quelle che erano, le attese, quindi, tutto, tutto, fermo, fermo, abbastanza relativamente tranquillo, 1,12, 74, vedo l'euro dollaro, quindi dicevo che, chi sta guardando la registrazione su YouTube, nella descrizione, sotto dove ci sono maggiori informazioni sul video, c'è link, sia per aprire un conto, o comunque entrare nel mondo, il sito, che vedete qui, la home page, sia anche, la possibilità, di registrare, il go to webinar, ed essere presenti, a questa diretta, essere attivamente, partecipi, ed euro che sale, mi pare giusto, scrive Mattia, Marco, vuoi aggiungere qualcos'altro? No, stavo aggiungendo, il mio numero diretto, ma ho sbagliato a mettere il prefisso, comunque il prefisso di Milano, 0,2, 87, eccolo qua, prendete subito nota, fate copia e incolla, fate copia e incolla, perché sto per chiudere la sessione, un'altra chiusa la sessione, si perde questa informazione, comunque, mi raccomando, prendete subito nota, di quello che è, il numero di telefono, 0,2, anche lì è uscito su Bloomberg, 0,2, perché c'è l'ufficio, STO è uno dei pochi broker, che ha proprio la filiale, l'ufficio, non sucursale, in Italia, e arrivano pure i messaggi da Ivan, formazione operativa, vedete Ivan, come lì pronto ad informarvi, aggiornarvi, dato sul PIL Eurozona, confermati, euro che dopo l'accelerazione ha ribasso, provo un timido rimbalzo, vediamo se lo stop in pari, ci consente di tenerla in pa, aperta, perché precedentemente, era stato inviato un alert di trading da Ivan, e questo è il bello, insomma, vi mando tutte queste operazioni, e vi spiega anche come, ecco perché si chiama formazione operativa, c'era stato uno short, su euro, dollaro, sul suo canale. È un servizio veramente utile, io lo consiglio veramente. Tutto, veramente, vi segue, tante video analisi durante la giornata, c'è già un archivio di video, oltre 100 video, in cui spiega le basi del trading, che cos'è un prezzo, che cos'è il risupporto, resistenza, le strategie, le medie mobili, indicatori, oscillatori, tutto quello che c'è da sapere, insomma, davvero, molto, molto, molto interessante. Mattia, io ho chiamato, ha risposto uno da un con, Mattia, Mattia, ha chiamato lo 02, dice Mattia, ha risposto da un con, impossibile, no, 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 bene, si chiude qui questa diretta Intermarket, grazie, grazie, grazie a chi ha guardato la diretta, chi ha guardato anche la registrazione, grazie anche a Marco Pianezza, ciao Marco, buona giornata, grazie a voi, ciao, buona giornata, ci vediamo domani, domani ancora a 10.30 con la diretta Intermarket, bye bye.